Credo che sia bene fare una premessa di carattere metodologico. Il mio non sarà un discorso di carattere storico, artistico, ma appunto, come è stato detto, un tentativo di interpretare in una direzione filosofica o in una direzione di pensiero il mondo delle immagini, o meglio, una porzione del mondo delle immagini. Non è infatti assolutamente mia pretesa definire che cosa sia la pittura della contemporaneità, ammesso e non concesso che esista una pittura contemporanea o un'arte contemporanea, ma semplicemente approfondire alcuni aspetti teorici di una tradizione pittorica che sicuramente non è una tradizione descrittiva, rappresentativa, ma ha una caratteristica che, come è stato anticipato, mi piace chiamare una caratteristica simbolica, cioè il senso di una pittura che non si limita a ciò che rappresenta, a ciò che mostra, alla dimensione visibile, ma tende invece, attraverso il visibile, a mostrare contenuti non soltanto di carattere teologico, ma che trascendono il visibile, cioè contenuti di carattere invisibile. Quindi dimostrare quella tradizione pittorica che ha al suo interno una caratteristica che è iconica, derivando dalla tradizione delle sacre icone della confessione cristiana ortodossa, greco ortodossa e russo ortodossa, tradizione iconica che è una tradizione estremamente legata alla tradizione simbolica. E proprio l'immagine che possono vedere alle mie spalle è la dimostrazione, proprio direi intuitiva, di che cosa può significare la differenza tra un'icona, diciamo così, tradizionale e un'icona della contemporaneità. Entrambe le immagini, in realtà, rappresentano Cristo, ma uno, naturalmente, rappresenta simbolicamente Cristo, Ictus, il pesce, secondo anche una tradizione iconologica, iconografico-simbolica che troviamo all'interno delle catacombe, per esempio. L'altra, invece, è una grande icona, del più grande pittore di icone della tradizione russa ortodossa, cioè Andrei Rubliev. Ecco, per entrambi questi autori, chi rappresenta Cristo in immagine, in volto, il volto di Cristo, e chi invece rappresenta il simbolo che sta per Cristo, cioè il pesce, ha una concezione simbolica della pittura. Cioè la pittura non è soltanto quel che rappresenta in un caso e nell'altro e nell'altro caso. Cosa vuol dire, allora, affermare che esiste nella pittura, non esiste soltanto, ma esiste nella pittura una tradizione iconica, una tradizione che fa sì che noi, attraverso delle immagini, vogliamo manifestare delle icone. Come si accennava poco fa, il carattere simbolico dell'icona. L'icona è un simbolo. Quindi, in realtà, quello di cui parlerò questo pomeriggio è appunto il tentativo di capire quali sono gli aspetti simbolici presenti nella storia delle immagini, così come queste immagini si sono coniugati nei vari momenti della storia della pittura come grande momento della storia della spiritualità occidentale. Quindi qualche parola di assoluta generalità sui termini che stiamo usando. Quando parliamo di simbolo, che cosa intendiamo? Che cos'è il simbolo? Parola che utilizziamo, come vedremo tra poco, in varie accezioni, ma in realtà il simbolo, parola che deriva dal latino, a sua volta dal greco, ha un significato molto preciso. Come dico sempre, i greci parlavano greco e quando parlano di simbolo parlano della riunificazione, di una necessità di riunificare due elementi. il termine simbolo significa appunto su un ballen, cioè significa mettere insieme. Allora, la prima domanda che dobbiamo porci è la seguente, ma quando si dice che un'immagine ha un valore simbolico, che cosa mette insieme? Quali sono le parti che mette insieme un dipinto, un'opera, un'opera d'arte? Le definizioni, come dicevo, che possiamo dare di simbolo sono definizioni molteplici e stratificate, non mi fermerò naturalmente su tutte e cinque, anche se è interessante vederle tutte e cinque, per questo le lascio scorrere alle mie spalle, a dimostrazione che il simbolo può essere semplicemente un segno grafico, può essere un segno del linguaggio, può essere un'allegoria, può avere una funzione allegorica, cioè veramente denotativa. Ecco, tutti questi significati di simbolo non sono quelli che interessano l'icona, cioè non sono quelle che interessano l'immagine. Il simbolo che interessa l'immagine è, se vogliamo, il primo e il quinto di questi significati. Cioè, il simbolo per gli antichi greci era, in un certo qual modo, una tessera o un oggetto spezzato che due contraenti tengono, ciascuno tiene una parte, consentendo, nel momento dell'incontro, la riunificazione delle due parti e dunque il riconoscimento delle due parti. Quindi il simbolo è un segno di riconoscimento e di riunificazione, ha una valenza espressiva, ma anche una valenza di riassumere, di ricomporre un'unità infranta. Il modello di questa concezione del simbolo è il modello platonico che ho sentito spiegare in molti modi, ho risentito spiegare l'altra sera in televisione, guardando tre uomini una gamba di Aldo Giovanni e Giacomo in modo in realtà platonicamente perfetto, perché si parlava di una mela, la mela viene spezzata a metà ed è proprio il mito platonico, il mito platonico dell'unità dell'intero che a un certo punto viene spezzato e che cosa fa l'uomo in tutta la sua vita, in tutta la sua esistenza? Cerca di ricomporre questa unità, cerca di ricomporre questo intero che è stato spezzato. Dunque il simbolo è proprio l'esigenza di ricomporre un intero originario, un intero primigenio che è stato spezzato e che dunque dobbiamo ricomporre. Ovviamente questo significato platonico è stato ripreso, recuperato all'interno come molti contenuti del platonismo e del neoplatonismo che è alla base del concetto di simbolo nella tradizione cristiana, tanto che nell'italiano del Trecento il credo era appunto chiamato il simbolo in quanto denotava l'unione originaria dell'umano e del divino. Allora appunto questo abbiamo già un primo significato di simbolo. Il simbolo è riunificazione ma è riunificazione di un elemento immanente cioè di un elemento sensibile e di un elemento trascendente cioè di un elemento che trascende l'immanenza. Questa trascendenza non è necessariamente la trascendenza divina ma è evidente che in una tradizione figurativa che vede i soggetti religiosi al centro di questa tradizione è in primo luogo una trascendenza ritenuta una trascendenza divina. Quindi il simbolo è in primo luogo una riunificazione. Allora diciamo ed è il punto il punto di partenza dell'intero discorso quando noi parliamo di simbolo non intendiamo né una parola né una immagine bensì una possibile ricomposizione di un elemento narrativo con un elemento in realtà di visione con un elemento di visibilità. E questa riunificazione questa riunificazione di parti che erano state divise originariamente è una forma di conoscenza è una forma conoscitiva cioè il tentativo di riunificare il simbolo accresce le nostre dimensioni di conoscenza anzi per certi versi il simbolo e mi scuso per il gioco di parole è un simbolo della conoscenza stessa cioè mostra la tensione della conoscenza a recuperare sempre e sempre di nuovo una unità che è stata che è stata perduta. L'unione cambio colore perché è finita la premessa e vado nella nella specificità del discorso ecco il legame tra il simbolo e l'icona l'icona come immagine è come già accennavo un legame antico un legame che risale alla tradizione del pensiero platonico anche se mi piace sempre dire più che a Platone a tutte quelle tradizioni platoniche che hanno attraversato la cultura occidentale dalla grecità cioè da Platone stesso fino al VII, VIII, IX, X, XI secolo quindi che hanno attraversato tutto il formarsi della cultura europea ma in particolare il legame tra l'icona e il simbolo nasce in quella che è la tradizione platonica per antonomasia e quindi una tradizione che risale al pensiero di Plotino a quello che viene detto il padre o comunque il maggior esponente della cosiddetta dimensione o scuola neoplatonica ecco perché naturalmente il pensiero di Plotino è il pensiero che pur pre-cristiano anche se vive all'interno di un'epoca dove già c'era il cristianesimo che permette il trapassare dei valori platonici alla cristianità quindi permette un elemento di passaggio e forse unico tra i grandi filosofi dell'antichità Plotino è molto attento al ruolo conoscitivo dell'immagine cioè Plotino e i neoplatiniani sono attenti alla funzione simbolica dell'immagine a di a a a a a Grazie a tutti